Una festa, una vera e propria festa, con un ospite d'onore, il sapere che include. La Notte Europea dei Ricercatori ha portato tantissime persone all'Università d'Annunzio. Dal primo pomeriggio di ieri, più di 10.000 visitatori hanno affollato i tanti eventi in programma. Ad accogliere gli ospiti, il Rettore Sergio Caputi. Questa è una giornata di festa, vuole essere una giornata anche di cultura, di orientamento per i giovani, ma fondamentalmente noi accogliamo oggi nel nostro campus tutti i ragazzi o comunque tutti coloro i quali vogliono venire a vedere quello che facciamo e dove viviamo e dove lavoriamo. 40 laboratori, 10 seminari e 15 tavole rotonde per far uscire il sapere dalle mura accademiche e mandarlo incontro ai cittadini con un abbraccio inclusivo e scaldato da performance, spettacoli e concerti. Molto partecipato è anche il seminario sull'inclusione di genere organizzato dalla prorettrice vicaria dell'Ateneo Augusta Consorti. Aprire le nostre aule, aprire i nostri laboratori e far vedere quali sono i risultati anche del nostro lavoro. È veramente una festa bellissima. Sul tema portante del convegno non ha dubbi l'ex ministro e senatrice Maria Pia Garavaglia. Le norme che abbiamo circa l'inclusione e la parità di genere nel mondo del lavoro è lontanissima da realizzarsi ed è il tradimento della Costituzione che dedica degli articoli precisissimi sul lavoro della donna, sulla sua possibilità, se vuole diventare madre, di poter conciliare essere madre, l'educazione dei figli e il lavoro. Siamo lontanissimi da tutto ciò. Parlarne all'università e ai giovani può darci che sia uno stimolo a farle lavorare. Allarga i confini della riflessione la presidente della Corte d'Appello dell'Aquila, Fabrizia Franca Bandera. Prima il tema era solo aumentare la presenza delle donne, oggi il tema è come lavorano le donne, cosa hanno cambiato nei luoghi dove sono entrate in massa, cosa sta cambiando, come può ancora migliorare. Credo che oggi interessi meno la singola donna che riesce a sfondare il tetto di cristallo, ma che ci interessi che il pensiero delle donne porti una differenza. Presenti al campus anche alcune scuole di Pescara e Francavilla nell'ambito del progetto Scienza Under 18, che ha permesso di mostrare ai visitatori i lavori interamente realizzati dagli studenti.